Buongiorno a tutti, cari amici e cari amiche. Oggi vi raccontiamo il cuore della nostra riforma sanitaria che proporremo nelle elezioni del 2018 per governare questa regione. Innanzitutto parliamo del cuore del progetto Sanità 5 Stelle, Libro Bianco Sanità. Tutto parte dal principio che vogliamo mettere in piedi un sistema attuabile ed efficace, proattivo, basato non sulla cura della malattia, sull'attesa. Quando abbiamo una malattia cosa facciamo? Andiamo dal medico, facciamo degli esami, aspettiamo che la malattia arrivi. Invece noi vogliamo studiare un sistema sociosanitario che permetta di prevenire le malattie e intercettare quei sintomi sentinella che ci dicono che siamo predisposti per il nostro stile di vita, per l'alimentazione, per come ci comportiamo tutti i giorni, ad alcune malattie. Questo possiamo già farlo oggi. Il cuore di questo sistema, di questa grande sfida, parte proprio dal concetto che il cittadino deve essere considerato una persona sana, in buona salute, in buono stato psicofisico. E il cittadino deve andare al pronto soccorso, quindi in ospedale, solo quando ha una vera necessità di farlo, solo emergenza. Quindi togliamo il pronto soccorso a tutti questi pazienti cronici, programmabili, che fanno accessi inappropriati. Quindi rivediamo anche questo assetto. Poi cosa succede? Il cittadino deve essere informato innanzitutto. Quindi pensiamo di lanciare dal 2018 grosse campagne di educazione sanitaria ai corsi di informazione, quali sono i diritti dei cittadini dal punto di vista della salute, a quali funzioni territoriali o sanitarie o diritto e dove si trovano. Avere chiaro per tutti i cittadini come usare la nostra sanità in maniera appropriata. E poi naturalmente mettere i cittadini in contatto con tutte quelle reti, quei gruppi di persone che hanno la stessa patologia, per esempio io scopo di avere un tumore o una malattia meno grave come il diabete, non sono lasciato da solo, ma sono in contatto con tutti quei pazienti che già vivono questa brutta esperienza e possono aiutare psicologicamente anche ad affrontarlo, soprattutto con le persone che magari sono già uscite dalla malattia e possono attraverso questi reti di supporto e di autoaiuto avere un'assistenza molto avanzata. Quindi costruiamo una sanità verso il cittadino, intorno al cittadino, non deve essere più il cittadino passivo che attende la malattia. Tutto parte poi dall'intercettare, come vi dicevo, i sintomi di malattia che possiamo già prevedere prima che si sviluppi la patologia. Stiamo lavorando con il DEP Lazio, il Dipartimento di Epidemiologia, e con Lazio Crea, con gli enti regionali che già hanno questi dati, ma semplicemente non li usano, non li mettono insieme, e questo è assurdo. Innanzitutto pensiamo che questo sistema debba attivarsi per indici di benessere, quindi non solo per una patologia in corso o la cronicità conclamata, come avviene oggi, quando ho la malattia vado a farmi curare. No, noi cerchiamo di intercettare la malattia prima che si sviluppi. Possiamo farlo. Innanzitutto attraverso un monitoraggio attivo della popolazione, attraverso appunto i dati epidemiologici, e attraverso la predisposizione alla patologia. Già sappiamo per l'anamnesi, per i dati che anche i medici hanno, chi è soggetto, per il proprio stile di vita, per l'alimentazione, ad avere magari un diabete nei prossimi dieci anni, o sviluppare una malattia che magari geneticamente me la sto portando dietro. Questi dati semplicemente oggi non sono utilizzati, e questo è un grossissimo errore. Noi pensiamo di, attraverso l'internet delle cose, attraverso i dati genetici, fenotipici, epidemiologici e ambientali, possiamo già monitorare ogni singolo cittadino, intercettare appunto le problematiche che possono portare alle malattie, l'esposizione a indici, a fattori patogeni, a aspetti che possono portare allo sviluppo di malattie. Possiamo già fare questo lavoro oggi. E poi lavoriamo sui segnali sentinella. Quando magari lavoro, oppure vivo in un territorio con sintomi magari epidemiologici chiari, magari stanno sviluppando in quell'area geografica un particolare tipo di malattia cardiovascolare o un tumore. Quindi possiamo già monitorare il territorio molto nei dettagli per capire se sono anche io soggetto a questi agenti esterni che influenzano il mio organismo. Attraverso i segnali sentinella e algoritmi di sanità predittiva, questo è il termine esatto, possiamo già intercettare e attivare questa autoattivazione del sistema sanitario verso il cittadino. Quindi ancora prima che la persona abbia un sintomo di malattia possiamo già attivare il sistema sanitario per andare verso di lui. Capite? È una sfida enorme. Parliamo di percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati su misura del cittadino. Attualmente oggi abbiamo queste finte case della salute dove il paziente cronico, obesità, BPCO, maldite cardiovascolari va per essere inserito in un percorso. In realtà noi andiamo molto oltre. Parliamo di PDTA elettronici personalizzati sulla base proprio dei dati che raccogliamo su ogni cittadino. Quindi io sto sviluppando per il mio stile di vita magari una malattia cardiovascolare, costruisco un PDTA, un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato su misura della mia situazione socio-sanitaria. E intorno a questo PDTA costruisco un sistema di professionisti sanitari adatti al mio PDTA. Per esempio ho un sintomo che mi porterà al diabete nei prossimi 5-10 anni. Io affianco alla persona, al cittadino, magari potrebbe essere un nutrizionista, un dietologo, uno psicologo, in modo che costruisco su misura questa equipe multidisciplinare di base che mi aiuterà nel mio percorso diagnostico-terapeutico. Quindi non è più il medico di medicina generale, il medico di base che ha in mano tutto e non conosce la storia dei pazienti. Saranno questi gruppi, diciamo, flessibili che vengono associati al cittadino in base alla sua patologia specifica. Capite la sfida enorme? Quindi rivedo il sistema sanitario, l'ospedale, l'eretistenza territoriale sulla base di questo percorso per ogni cittadino. Quindi tutto si attiva sulla base del singolo paziente, delle sue caratteristiche nella sua patologia. Come fare questa cosa? Attraverso, questo è un punto fondamentale, il fascicolo sociosanitario elettronico regionale che attualmente non esiste, sarà luogo virtuale dove tutti i miei dati sanitari verranno riuniti e potranno essere analizzati proprio in ottica predittiva. Attualmente io faccio un esame in una struttura, questa è la cartella clinica, mi viene data e me la tengo a casa. Il medico di medicina generale non sa neanche che ho fatto un esame, sono stato al pronto soccorso, ho fatto una visita che magari ha portato dei dati molto importanti. Tutta la struttura sanitaria convoglierà questi dati personali, tutti gli esami che faccio, la mia storna clinica, tutto quello che è la mia vita, il mio fascicolo sanitario, convoglierà nel mio profilo sociosanitario attuale. E da qui posso calcolare attraverso questi algoritmi di sanità predittiva, medicina predittiva, il mio profilo bioanalitico futuro. Capite? Ho la mia situazione attuale, la fotografia di oggi completa di tutti gli esami che ho fatto, la mia storia, compresa quella genetica della mia famiglia, per capire le malattie rare, le malattie che mi sto portando dietro a livello genetico, e in più costruisco questa sanità predittiva per dirmi nei prossimi anni, io per i dati che ho oggi, potrò sviluppare queste patologie. Quindi prevengo la malattia. E questo è un aspetto centrale. Poi cosa faccio? Metto tutto in contatto con i big data, quindi la rete sociosanitaria di intelligenza collettiva globale. Il medico di medicina generale non è aggiornato su tutte le ricerche in tutte le università del mondo, tutti gli esami, le patologie che i centri di ricerca stanno analizzando. In questo modo io metto in contatto la mia situazione personale, genetica, fenotipica, epidemiologica ambientale, con il big data di informazioni sanitari. Faccio un match fra il mio stato attuale, psicofisico e futuro, e con i dati della sanità mondiale. Capite? E cerco di capire anche come queste cose possono andare insieme e come posso poi capire esattamente, anche nelle malattie più rara possibile, sapere la terapia migliore, i farmaci migliori per curarla. E poi cosa costruisco? Da questo un piano di interventi preventivi e terapeutici e un'assistenza ai servizi integrati a livello domiciliare. Quindi non mando più il cittadino nell'ospedale a curarsi, ma predispongo un piano di intervento personalizzato su misura che sviluppo addirittura a casa attraverso appunto queste figure che vengono assegnate attraverso i servizi domiciliari. Quindi capite? Questo è un sistema proattivo che mette in discussione tutto il sistema attuale basato sull'ospedale, sull'ospedalizzazione, sulla medicina accentrata sulla cura della malattia. In questo modo abbiamo davvero, apriamo le porte a un futuro possibile e lo stiamo costruendo attraverso un gruppo di lavoro composto da 100 persone attraverso questo progetto di Urbianco Sanità in cui stiamo sviluppando esattamente, punto per punto, come rendere efficiente ed efficace questo modello che attualmente è teorico, ma potrebbe essere davvero la medicina del futuro che permetterà ai cittadini di non ammalarsi e prevenire tantissime malattie che possono essere già oggi curate in modo molto facile, con uno stile di vita, con un'alimentazione, con un modo anche di lavorare, di muoversi diverso. Quindi una medicina del futuro che preverrà le malattie. Questo è il cuore della nostra riforma sanità. Grazie. Grazie.